Ehi Mike! Salve belli, ci siamo tutti, vero? Tom, piacere di vederti Mike. Come stai? Sistemato bene? Lo chef farà miracoli, ragazze quante ne vuoi, e credito illimitato al casino. Fish per tutti che giochino alla nostra salute. Ho abbastanza credito per rilevare tutto. Ma per rilevare cosa? Il casino e l'hotel. La nostra famiglia vuole subentrare. I Corleone vorrebbero comprare la mia quota. No, io compro la vostra, non voi la mia. Il tuo bilancio è in perdita. Noi possiamo far meglio. Cosa vuoi dire? Che ci mangio sopra? Non hai fortuna. Voi altri siciliani mi fate proprio ridere. Io vi faccio un favore, associo a Freddy quando voi ve la passate male e ora cercate di farmi fuori. Aspetta un momento. Tu hai associato Freddy perché la nostra famiglia ha fatto da banca il tuo casino, perché la famiglia Campana di Los Angeles garantiva la sua protezione. Ora se vuoi parlare d'affari, parliamo d'affari. Già, parliamo d'affari, Mike. Prima di tutto voi siete finiti. I Corleone, il potere di una volta ormai non ce l'hanno più. Tuo padre non sta bene, non è vero? Barrese e le altre famiglie vi stanno cacciando da New York. E cosa credete di fare qui? Vorreste cacciarmi dal mio hotel e tenerlo voi? Sì, gliel'ho detto a Barrese. È disposto a pigliarsi la vostra quota lasciando a me la gestione. Per questo hai schiaffeggiato mio fratello in pubblico? Oh no, non è stato niente, Mike. L'ha fatto senza secondi fini. Certo, perde le staffe anche lui qualche volta, ma noi due siamo buoni amici, vero Mo? Qui c'è un albergo e un casino. E se non si dà qualche esempio, mandano tutto ai rotoli. C'è stata una discussione tra me e lui. Lui ha alzato la voce e io l'ho messo a posto. E l'hai fatto davanti a tutti. Stava a sbattersi le ragazze del bar, due alla volta. Non servivano più le consumazioni ai tavoli. Tu che avresti fatto? Io torno a New York domani. Proponi tu il prezzo. Ma per Dio! Tu a me non mi conosci, io sono Mo Green. E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti. Aspetta un momento, mi è venuta un'idea. Aspetta. Tom, tu sei il consigliere. Tu puoi parlare a papà e spiegargli che... No, un momento. Don Corleone ormai si è ritirato. È Mike che decide negli affari della famiglia. Se hai qualcosa da dire, dilla a Mike. Mike! Tu non puoi venire a Las Vegas e trattare in quel modo un uomo come Mo Green. Fredo... Sei il fratello maggiore e io ti voglio bene. Ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Mai più.